Davvero, incredibile, bravissimo, mamma mia che asset da parte di Bilan, faccia di mettere giù il pallone e di lasciare sul posto il diretto avversario, invece decide di tirarlo in faccia, così come fa Barnell, benissimo su questo ribaltamento, nessuno degli esterni mette pressione, passaggi imprevedibili come questo, Barnell sta benissimo su un'idea di passaggio, va in contropiede e schiaccia. Blocco di Willis, palla persa ancora una volta, stavolta è Barnell che può andare sopra il ferro a due mani, arriva il massimo vantaggio della Dynamo, misteriosa per Willis, che riparte con i suoi prostucosti, ma sbaglia la schiacciata, troppa energia di Willis e dall'altra parte Barnell trova i due punti in modo ancora più misterioso. Barnell trova i due punti in modo ancora più misterioso.